oh bello a tutti ragazzi e benvenuti sono Will, sono Mastra, se dove sei e oggi ragazzi siamo tornati su Happy Wheels dopo tantissimo tempo oggi sono qua, oggi sono in vena di fare tutti quanti i livelli che ci sono nel menu questa settimana ragazzi, non si vede tantissimo, quindi si stava subito la webcam, bene oggi ragazzi sono pronto per sfondare ancora ragazzi e settimana prossima forse vi porto un altro episodio di Paperio partiamo con un Harpoon Dodge e direi di usare il padre di Luke usare il padre di Luke per un Harpoon Dodge ragazzi prendi Luke ho tolito prendere Luke dovevo usare il The Pogman dovevo usare The Pogman signori e vediamo cosa succede sapevo riproviamo ragazzi riproviamo molto semplicemente facendo così ma che culo ora ci sarà quello laterale ragazzi non ho mai giocato sto livello però sapevo già che sarebbe capitato questo no che culo che culo che culo che culo non ci credo non ci credo che culo che bucio di culo che bucio di culo signori bow and arrow vediamo cos'è ma com'è che dovevo fare click arrow to the right che figata vabbè ball through vediamo cosa dovevo fare con questo ball through ragazzi va sulla vittoria 20 ball va bene buono ora mi andrai sulla vittoria vero frate ok 5 ball ora mi vai su win no meteoro no non sono morto ragazzi sono ancora vivo vabbè fa niente ragazzi per il momento ho fatto solamente due livelli riusciti ho fatto solamente due livelli e due riusciti questo è il terzo vediamo se c'è sto cavolo di spazio mi va ragazzi 20 ball più help non mi ha elpato molto questo help meteora aiuto oh che culo win no oh ci sono vabbè tre minuti e tre livelli fatti mi chiedi mi chiedi mi chiedi mi chiedi mi chiedi questo coso ultra dead ultra padre no ultra morte ragazzi se giuro la cosa che sostiene il mio computer mi dà sui nervi perché continuo a farlo scivolare ma di un di un nervoso che manco ma le zani e andiamo e andiamo ragazzi ok scusate comunque terzo livello fatto sword throw oh bello lo sword throw ragazzi ciao killati tre in una botta sola non ho manco killato la tipa ma ok va bene bongo cat io sono massitas 06 mi sono da tutti gay mi scondo tutti gay ragazzi non so andare a tempo con la canzone pogo laser neon oh mio dio nothing special here si tanto sarà sbarrato sicuro tac e boom oddio mi sono salvato in una maniera incredibile dovevo morire prima qua dovevo morire prendi l'angolo e lanciati no mia sorella compie gli anni no non è vero orco perché non mi spara l'artivane qua ehi bitch vai a cagare vaffa oh 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 splinter salt può accompagnare solo o forse no vabbè no vabbè potevo andare a trascinarmi vabbè vaffanculo questo qua ragazzi è infattibile rough swing rainbow oddio vai 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 e mamma se ora devo entrare nel buco ragazzi suona malissimo sta frase ma fammi entrare mezz'ora per farmi cadere oh è pure un ball fall ragazzi un ball fall aggrappati alla roppa frate c'ho il tasto malandato sì era la vittoria meno male e normal level col padre di Luke this is just a normal level click to start non ho capito non ho capito come dice Yotobi nel suo nel suo head show che cazzo sto facendo ragazzi WWE capture WWE tagliatore orcaio mamma mi stavo facendo una cosa incredibile orcaio boom come nel mio primo video del canale ragazzi aggrappati orcaio un orcaio a del poco stravigliante faccio lo screenshot per la migliatura lo screenshot per la miniatura ragazzi esiste don't move or die non ti muoverò mai dai va bene non mi muovo sto qui ragazzi mi prendo anche un bel cafettino io ho paura si ammazzasse e boh che figata ma non va neanche il turbo dai e ora ok va bene ci sta bot bot a run scritto con due al posto di due t però vabbè fa niente vuoi 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 no 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 troppo 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 non ci credo padre di diuk fai schifo cazzo c'era riuscita luk 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 aiutami luk aiutami una mano sempre alla fine sempre alla fine sempre alla fine ora mi impegno signori mi impegno grazie ci voleva Antonio Ponte ragazzi non toccare con la ruota anteriore non toccare con la ruota anteriore le bottiglie e la vinci ragazzi ultimo livello bella ragazzi